e si ha periferito di solo una specie di sottocante la cadena è un'era visita Eri Fiusi A.S.M.R ciao amici fiusini come state? spero tutto bene oggi andremo a fare un video speciale tapping trigger e anche un buono lepre dedicato ai regali ricevuti per il mio compleanno per la festa che si è tenuta sabato sera io comincio con questa meravigliosa scritta bellissima che avevo messo sopra la torta è stata una festa super 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 emozionante bella con boccelli molto 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 bella e abbiamo mangiato anche la gambe alla spada una serie di pitanze che portavano appunto in queste spade e poi come ultima prima del dolce che ho portato io ci hanno portato l'anamas calda calda alla cannella è veramente veramente buonissima che 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 proseguiamo con il primo regalo, una bellissima crema viso una crema 24 ore intensiva alla stella alpina alga delle neve e pionia questa serve sia per il viso che per il coltello, sia per il giorno che per la notte ed è veramente, veramente fantastica anche la confezione è veramente molto bella, il colore è sul rosato pensate che non l'ho ancora provata sono curiosa di provarla su una mano per sentire la consistenza adesso la vado a provare è molto 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 profonda no veramente veramente buona lascia la pelle luminosa e ben idratata ne basta un pochino io che ho messo un po' di pelle l'ho venuta a provare però devo dire meravigliosa mi piace mi piace mi piace andiamo con questo qua che è un tonico vitalizzante per il viso a base di acqua essenziale di rosa e acqua di rosa alpina e arricchita con stella alpina c'è praticamente tutto alpino molto molto bella rosa canina rosa c rosa c rosa c di folia e un complesso rinfrescante vegetale aiuta a togliere tutte le impurità è una specie di struccante un tonico struccante molto 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 interessante allora Sì adesso andiamo a sentire la profumazione di questo tonico sembra come un disinfettante sa com'è una specie di disinfettante come profumazione però c'è questa nota di rosa alpina, questa nota di rosa molto 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 delicata che dà quel tono proprio leggero fresco di rosa che si trova anche nei profumi e nelle creme andiamo, questo qua è un sapone liquido ha il sapore di muschio bianco che però me l'hanno dato insieme allora questi regali che avete visto prima sono insieme e qua c'è il sapone e poi altri due sempre al muschio bianco questo è un troppo importante un po' è l'ho e poi c'è un po' è l'ho e qui poi c'è il nostro e qui non il sapone liquido per mani molto molto lascia la pelle super morbida ed illudata e quel profumo inebriante e leggero e e e e e e e il profumo è abbastanza forte si sente forte poi questo sapone liquido la doccia crema sempre al muschio piano il bagno doccia è l'unico per è e unico Grazie. Andiamo a sentire il profumo, ma non lo avevo ancora aperto questo qua, quindi lo aprirò con voi. Perché ho voluto mantenere la sorpresa per voi. E' buonissimo, devo dire che è buonissimo, è un po' più delicato rispetto al sapone liquido. Però devo dire che è veramente buon. Ok, andiamo subito. Questa è sempre uguale più o meno all'altra. Questa è la crema corpo sempre al muschio bianco. Praticamente vi hanno regalato il sapone liquido, il doccio schiuma e la crema per il corpo al muschio bianco. D'oriente, praticamente tutte e tre, tutto un trio. C'è il corretto bagno che è sempre ben accetto nei regali. Io le adoro soprattutto le creme per il corpo. Perché ne ho tante. Adoro la crema per il corpo. Hai la tua pelle bella profumata dopo la doccia. E' una cosa veramente fantastica. Io le adoro. Adoro improvumarvi dopo la doccia. Anche perché serve molto ad idratare la pelle. Soprattutto per chi ha la pelle molto secca. Bene ragazzi è arrivato il momento di sentire il profumo anche di questa. Che ho già aperto però volevo emozionarmi di nuovo nel sentire questa fragranza. E' buonissima, è buonissima. E' veramente buona. Allora adesso vado a provare la crema. Mi verso un po'. E' un profumo deciso ma allo stesso tempo dolce. Lo schio bianco secondo me è un profumo. più anche da primavera diciamo da quando ti metti un vestito magari un po' strano, un po' diverso, un po' fresco. E' un portafoglio che da una parte è bianco con le scritte nere e dall'altra con le scritte bianche. Ciao. allora è veramente fantastico guardate quanti scompatti ha questo bellissimo portafoglio il portafoglio con carte di credito qua dove metti i soldi e anche qua volete anche il portafoglio vedete e lì qua altre portafoglio con carta di credito o tessi del supermercato e si può mettere anche i soldi credito è molto bello molto bello è veramente questo qua è particolare perché metà è bianco e metà è nero è veramente molto molto bello andiamo a vedere questa è bellissima guardate come pesci lo sa infatti ragazzi che a me mi mancava una borsa nera per le teste e le altre che ho sono più da giorno non sono sclitterose come questa guardate come è è luminosa è bellissima è bellissima ragazzi è super super fashion ha la catenella e dentro è molto molto speciale perché è molto grande e questa catenella meravigliosa adoro è è è ha questa particolarità di essere super slitterosa e io l'adoro le cose slitterose soprattutto per le feste o per le serate importanti con le amiche o con il fidanzato non il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Io adoro tanto questo suono quando posi la catena questo suono lo adoro ragazzi passiamo all'intensualo ragazzi questo è un profumo l'opium forse qualcuno di voi lo ha già provato c'è quello rosso e quello nero e questo me lo ha regalato indovinate chi? il mio fidanzato che questo è un profumo super 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 di bello assoluto all'ambra liquida che prendo dell'erborario però ragazzi la boccettina è veramente stupenda è un alisir è un alisir è un alisir il profumo ragazzi è veramente veramente buonissimo è inebriante ti trascina con sé è veramente veramente bello molto molto buono adesso me ne spruzzerò un po' sulla mano così qui vi godrò questo questo super profumo questo qua ragazzi è veramente veramente una cosa stratosferica è 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 bene ragazzi io vi volevo ringraziare spero che questo video vi sia piaciuto sono stata felice in questa festa che ho trascosso volevo condividere con voi tutti i regali che ho ricevuto detto questo io adesso vi dico un arrivederci e ci vediamo al mio prossimo video qui su youtube buona giornata buona giornata buona giornata